Dai yeee! Speriamo che sia una bella partita oggi ragazzi Speriamo che sia una... veramente una bella partita perché non mi vado a addormentare a mainstream Oggi ragazzi miei per dico la verità Ma ciao! Il maestro! Maestro! Il maestro è il più forte Senti ma che faccio? Cucino... Cucino... Come si chiama? Streaming Yard? Eh ok ci siamo, ci siamo, tutto settato, tutto a posto Da Zon avete messo... Tu che hai messo Fazzò? Eh quello c'ho da Zon, si Fazzon Allora regà Quindi io faccio sentire l'audio Io lo sto a far sentire C'ha il terrone Però basta che non è... Oh Lukaku sta già litigando Vabbè normale Ma già... perché è normale scusami? Eh perché diciamo è fucuso Ah ok Come giocatore Ma allora regà quanto è pelato l'arbitro Sì no ho vinto Hai vinto, vedete, è collina, pare collina Pare dei Lorra Stiamo a giocare mille euro live No ma Zon No ma Zon Mi pare eccessivo Sul gol di Lukaku Guarda piuttosto mi gioco che moro io in campo No è brutto da dire perché stava per Morindiga poi Non è un bel momento per dire una cosa del genere Non è un bel momento no Oh sarà male del Milan Non funziona per il primo tempo Mi metto quello della Roma Bravo Qua gufo de merda No 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 io ho sempre pulito Ah Giru arzate Sta già piangere Già che arzane le mani porco Dio Mamma mia faccia Già sta affatto per matto Bravissimo Tutte così Rafa Tu stai attento eh Che se gli è più alla voglia di giocare fa male Eh lo so Eh lo so Quello è il problema Il fatto è far ridere Che se vuole vincere Se vuole giocare si vince Se la vuole vince Lui te la vince da sola È inconsistente Troppo però È veramente un fenomeno Ma è Cioè non puoi Cioè zero affidabilità Quello è il problema Liquido Oh oh Che queste sono monouso Cioè una volta che Vado in merda Scusa Marzò No Come ti permetti Bruttissimo Abbedi di DR E dagli No ancora per terra Oh Mi fa molto scherzi eh Di ballo guardi Sei rom Rott Guarda Tocca fa una giocata Zà Aspetta Dimmi Tocca apri un pacchetto Dei paradosso temporale Ma che è Ti vedo A tenito Che succede Ma ha fatto uno schema Aurendo La vera domanda è Mazzazzone Quanto cazzo è andato Il grande E non c'è Sta tipo Manuxo Eh mi sa che sta Stavendo offline Ah sì Lo avro così Stavate Vai Oh Miltank Mi sentiva Il cazzo di Miltank Era l'ultima comune E me mancava Sì Lo avro così Mazzò Guardi Guarda che Eh non so che so Però è colorata Quella La merda No Se segnano nel frattempo Oh Eh manci Va bene C'è cazzo No è oro base Mazzò No ma è volo Sto a conciare un cazzo Alla Oh che bordito Porta bene Porta bene Sì Let's go Il mancio Il mancio Il mancio Paradosso Il dio del pallone Che palo Io c'ho paura Non è fuori gioco No No ragazzi Guarda che l'ha fatto Chi è No è buonissimo Raga Incredibilmente Buono Taglie cazzo Porco Dio E questo è un gol Da serie D Che hai preso Ma ragazzi Bro la difesa Che resta lì Ferma Ma lei attacchi Ma qua Ma sei rimasto fermo Capito Ma che Ma c'è la voglia Di giocare mia Bella la dedica Bella la dedica A Mattia Il grande Mattia Atrix Durante Durante L'esultanza Pochi stati E non potrebbe essere Porca madonna Porca Ma sta piove infatti Raga A Mattia No ha piovuto Ma poco A cinque minuti Però si Ha fatto i bo C'è presente Quelle piogge estive All'improvviso Ho fatto O sgrullone È ferma Basta All'immancio Ancora è diciassettesima Tu sei matto Gli schiavo È finita Oddio Quanto è bella Rina E mi tiro una sega E mi tiro le seghe Porca troia Cosa è successo Mentre stavo mettendo il cane Un'altra traversa Un'altra traversa Del Milan Godo Che colpa tua papà No è mo' No 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 Regà Beh ma allora Non è da vincere Proprio la partita Dai Dici c'è una cursa Eh no E allora Non ha senso Neanche Comunque è una bella partita Sì sì E credo Che pianto Che pianto Molto presto 20 ore Senza rischiare Raccoglio il pallone No Zanzone mi sa che ha ricevuto uno spoiler Ma c'è il gas per i sei Euro gas per i 36 Eh ma pure io Ragazzi avremmo vinto un sacco di soldi Di bala giro Paolo Di Pa La Ma no ma che cazzo c'ho Ragazzi Ma che è qui No Zanzò No Zanzò va a scappare così Paolone Di Bala Mamma mia come godo Mamma come godo Ma come ce la fa più la di bala maschera Ma romoletto Ma corso ha lottato Oh ma il treno sta ancora in giro qua Ma che partita è Mamma mia Mamma mia se godo Zanzò appena hai fatto questo gesto Avevo già capito Eh Eh Perché Avevo fatto così Perché poi urlano forte Ma che è Come se chiama il difensore del Milan Che con tutte le braccia E porca oddio ha piato un volo di Ocane Eh sì È bello che hai spostato Frate ha preso un volo regà porca oddio Urk Buon viaggio Gabbia Ah l'altra partita dici Eh mi sa di sì Gabbia contro il World Maria No però ragazzi La partita è ancora Ancora qui Non la diamo per V 0 a 0 0 a 0 Marzò 0 a 0 Porco oddio mi cago sotto Ma hai fatto la mossa dell'altra volta Pulisic Loftus Cic Trequartista Ma è un coglione Eh Bro ma è stupido Pulisic C'è il centro E a destra Da Ciuguezza Fatta il panico Ma perché non lo mette Altra volta l'ha messo dieci minuti Ha cambiato la partita Ma poi ogni volta Cirù che ha sbagliato un gol All'andata Che ve lo giuro Lo mettevo mia madre Eh peccato Quello dei Cirù Quello dei Cirù Marzò Peccato 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 Quello sì Quello brutto eh Peccato Che stavi godendo Sicuramente Quello sfortunato C'è da dire eh Power Tammy Bello 13.000 a viso Stiamo andando Non mangio No Celic Caffù scivola Caffù No Regà No No Non so pigare Dai Non so pigare Rosso di vento Attenzione intanto rosso Codo Rosso per Celico Ma che rosso è? Ma Codo da morire Ma come fa a essere rosso? È giusto Però ma sta cross the world Ah sì ma l'intento era malevolo Ah no l'intento è fallo tattico Che malevolo Guarda qua Guarda qua Guarda qua Bruttissimo Ma non l'ha preso Ma non l'ha mai preso Ma non l'ha preso Ma non l'ha preso Mazzò hai appena detto Comprate l'arbitri Guarda che cazzo è successo Ma ma l'ha rete rosso Ma non l'ha preso Ma non l'ha preso L'ha preso prima L'ha preso prima Brugun ferma Cioè ma ha confermato il cartellino rosso Quali saranno le contromosse di guadagnatori Ma che riguarda il modo di Daniele De Rosso Sono senza senza Sarò Serve il rosso a Mancini No ma che cazzo di rosso è? No serve un altro rosso Oh porco Dio No 10-11 No 10-11 3-0 comunque non lo p Serve uno di meno Non è meglio uscire al campo Sì 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 Serve un rigore Rigore rosso Porco Dio Mi sparo Ho capito di dove c'è Io c'è provo Poi vediamo E ora chi mette Non c'è il modestino Alla scusa Chi ha cazzo? Lo sta grandinando Ma che vuoi rigore? Ma che vuoi rigore per fallo? Ma non basta da passare così Ma che rigore è? Ma che è sta punto? Rigore Rotta di bala Ebbè tanto Ma si è buttato Bro ma la prende prima Giroux col braccio Al massimo è fallo nostro La prende Giroux col braccio E poi la prende pure Mancini Ma la prende prima Giroux Oh via Buono dai Eccola Però che consulto devi vedere? La prende con il braccio prima Giroux Che devi consultare? Porco Dio Chi è? E mette una punta Pazza Ebbè ci sto Una mette Ma guardate Ah va a rivedere Cosa? Attenzione Vabbè guarda Mica l'ha dato però Marzo Chiaramente Che c'è? Qualcuno ha spessato Calma Calma Attenzione Guarda subito Vediamo Non è Fallo per la Roma Fallo per la Roma Oddio ma non c'è Chi dà la mano Che cazzo ridi? Sette minuti di reguvero Quanto meno Per il VAR questo Però Ma è il passaggio 20 secondi Il VAR No va a rosso Però sette minuti di recupero No questa è di nuovo Quella partita Quella La partita più lunga Della storia Sette minuti Però devi fischia Fischia Marco Dio Ragazzi C'è l'azione Da finì Eh sì Stanno in attacco Mica può fischia Ciao 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 Sì Vabbè Inutile Zio Porcone Zio Porcone Zio Completamente inutile Completamente inutile C'è se potremmo fare la weekend league Romano La conosci Marzola Quella completa Secondo me ti dico Non andrebbe cantata Ok Bello Bellissimo Aprirò E' solo Aprirò Ma vaffan cura Dio Ma quanto ci ha messo il Sharawi a aprirlo bro Almeno 4 Ha fatto 3 tocchi Prima di dargli il pallone La partita stavano 3 a 0 paro Ma non vanno da nessuna cazzo di parte Gli l'ha dato al terzo Gli l'ha dato al terzo tocco Ho capito un altro display Ho capito un altro display Ecco la mezza Eh vabbè però porco Dio Non vuole manca entra però E tu guarda come esce il tiro Da Ma pare gelipata il tiro Bello Ma daigliela Ma dai al tammi Ma dai al tammi Ma perché fai colpi di dacco Ma perché fai colpi di dacco Questo coglione Perché fai colpi di dacco Non so chi è posto vuole male Bravo dammi E' questo che si è cagato Quello dopo un po' si Ma perché fai colpi di dacco Raga Mamma mia 1 a 0 pa a nasa Porco zio Bravi bravi ragazzi Su Tutti quei fraseggi Ma se è lì Secondo te Ma che l'hanno mandato fuori Lui si è preso la macchina E se ne è tornata a casa Tipo No Bro è turco Sarà tornato a casa A stare a menare la moglie Roba del genere Eh te devo dire la verità Secondo me potrebbe succedere Decidi il taco Eh Du frustate Ci scusiamo Ci scusiamo Vabbè non è una cultura Che noi approviamo Comunque a prescindere Ragazzi Oddio E' tra spizzi in grilla All'olimpico Raga Tocca sentire un attimo I fischi Audio Audio Alzo l'audio Senti che bu Mamma mia Eccola E' tornato Pioli Ma raga Ma secondo me E' proprio demoralizzato A livelli cosmici Perché se non Si spiega uno Che c'è quel talento Lì frate E' tutto mentale Gli stanno sempre A rompi i coglioni Coraccio Cioè Cioè Veramente Deve essere 100% mentale Sta roba Perché uno Che c'è il talento Su è tutta roba mentale Se è così Rafa Leao Il maestro Mi stanno sempre A rompi i coglioni Cioè credo Che una certa C'è un meter Oltre che azzo Certo Più ha pure Dieci passi All'anno Mi sa Quindi Se dovrebbe Un po' Faccivolo addosso Però Io dico Solo l'unica cosa Ho capito Il fatto che Io sono d'accordo Sul fatto che Non è possibile Addossare tutte le colpe Solo su di lui Se una cosa non funziona Certo Perché in campo Ce ne stanno Undici Con tutti quelli Della panchina L'allenatore Non può essere Corpa de uno Non cambia nulla L'unica cosa è Sai di avere Un talento Diverso Dalla maggior parte Di quelli che hai In squadra Provace Piuttosto Tira in porta Fai È inutile che stia Gioca per l'altri E poi Sbagli pure Provace Vabbè Bel mood Consiglia che Ronaldo per il Portogallo È un po' come se stiamo A parlare Non lo so Di San Gennaro A Napoli Cioè Devo darlo a dieci sub Dai Ma chi è Gabbia Ragazzi Non vi starete mica Preoccupando Non vi starete mica Preoccupando Per il 3 a 1 L'ottantaquattresimo Vero Abbiamo arrivati a questo livello Di pianto Gabbia Che partita Che partita pure Del Faraone Ragazzi Ciao Coglione Ma la rosso diretto Gli ha dato Eh sì Ma non sarebbe Una sorpresa Ha rosicato Vedete Ragazzi Netto Netto Ragazzi Rischia di ucciderlo Ma certo Che lo va a rivedere Ma che cazzo Di rosso Ma che rosso È Ma questo è Pazzo Bro Questo è Pazzo Proprio Lo conferma No giallo Giallo Buone anche Però questo è Furmina Bro St'arbitro Sta fuori Di destra Frate Dai 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 Dammi il gatto Vieni qui Dammi il gatto Vieni qui Dammi il gatto Mamma mia ragazzi Però io posso Dicere Frate Io devo dire una cosa Frate Il Milan Inguardabile Quello è il punto Capito Che brifo Il Milan Inguardabile Avete giocato Comunque di Cristo Perché in dieci Avete fatto voi La partita Però Però c'è da lì Che è veramente Contro i morti C'è proprio I cadaveri I cadaveri Ragazzi mi dispiace Amici milanisti In parte mi dispiace In parte Sono contento per voi Perché probabilmente Ve liberate De quello che Attualmente Secondo me È il male Della vostra squadra Quindi spero Che almeno Ve possiate Liberate Quello che È Un incubo Vabbè Sto godendo Sto godendo Cioè per me Dovreste rinnovarlo A Pioli Però a prescindere Io lo sapete Sono mezzo simpatizzante Del Milan Quindi Mi dispiace Ma il Milan È stato oggi Inguardabile Cioè veramente Regà abbiamo Io mi chiedo Come cazzo Sia possibile Mi chiedo Come cazzo Sia possibile Come ha fatto Murigno a perdere Partite con sto Milan Cioè boh Promisio Trazzi a Prozzi a Prozzi a Prozzi a Prozzi a Prozzi a Prozzi a